Buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Giovanni. Buongiorno. Buon sabato 24 agosto. Sei appena tornato dalle ferie, insomma da pochi giorni. Sì, da lunedì. Riprendiamo il cammino. Ci riserva la Fratelli Tutti. Abbiamo estremamente bisogno di approfondire e visitare i temi della fratellanza. Visitare significa farli propri nella quotidianità. Siamo nel capitolo che ci parla dei limiti della visione liberale. Ascoltiamo dunque Papa Francesco e poi insieme cercheremo un po' di capire quale insegnamento possiamo trarre da questi passaggi. Tutto ciò potrebbe avere ben poca consistenza se perdiamo la capacità di riconoscere il bisogno di un cambiamento nei cuori umani, nelle abitudini e negli stili di vita. È quello che succede quando la propaganda politica, i media e i costrutti di opinione pubblica insistono nel fomentare una cultura individualistica e ingenua davanti agli interessi economici senza regole e all'organizzazione della società al servizio di quelli che hanno già troppo potere. Questo è un passaggio che parla dei giorni nostri ovviamente. Tutta questa riflessione deve fare i conti con la trasformazione liberistica della nostra società che attinge sicuramente dalle fonti liberali, ma che è al servizio del dispotismo egocentrico. Questo però per tradurlo nella realtà della vita quotidiana. Che cosa può rappresentare questo invito ad avere nuove prospettive, quei cuori nuovi, spiriti nuovi, i quali riescono a superare questa antica tentazione umana dell'egocentrismo? Come vedi nella contemporaneità questa prospettiva? nella contemporaneità secondo me bisognerebbe rivedere il modo di fare estremamente competitivo che abbiamo. Nella scuola devi essere il primo perché così prendi la borsa di studio devi essere perfetto perché così poi puoi andare in un'unità importanti e robe del genere per dire un lavoro, devi essere disposto a tutto per avere la promozione, devi seguire corsi per capire come fare a giocare in borsa, per poter fare soldi, per poter avere la casa, tutte le altre cose, tutti i meccanismi che portano pochissimi ad avere tutto e la maggior parte della gente rimane l'indietro. Perché qualcuno ha espropriato il tutto. Sì, secondo me è importante che si smette di avere questa visione di bisogno di competere, di superare gli altri perché come si fa se tutti siamo disposti a pugnalarci le spalle a vicenda, pugnalarci la schiena a vicenda per il nostro obiettivo? Scadiamo altro che nelle barbarie. Perciò la mia critica al paradigma tecnocratico non significa che solo cercando di controllare i suoi eccessi potremo stare sicuri, perché il pericolo maggiore non sta nelle cose, nelle realtà materiali o nelle organizzazioni, ma nel modo in cui le persone li utilizzano. La questione è la fragilità umana, la tendenza umana costante all'egoismo che fa parte di ciò che la tradizione cristiana chiama cupiscenza, concupiscenza. L'inclinazione dell'essere umano a chiudersi nell'immanenza del proprio io, nel proprio gruppo, dei propri interessi meschini. Questa concupiscenza non è un difetto della nostra epoca, esiste perché l'uomo è uomo e semplicemente si trasforma, acquisisce diverse modalità nel corso dei secoli, utilizzando gli strumenti che il momento storico mette a sua disposizione, però è possibile dominarla con l'aiuto di Dio. E' un passato piuttosto difficile. Sì, ora il Papa è normale che dire con l'aiuto di Dio. Io credo che la fede non sia l'unica risposta a questo problema. bisogna fare affidamento sulle altre persone, anche per fini non egoistici, non ritirarsi dal contatto col prossimo anche quando non è ciò che desideriamo, anche quando potrebbe fare male. E questo richiamo a Dio, alla trascendenza, è un modo attraverso il quale siamo invitati ad andare oltre noi stessi. Capita che anche le persone che si definiscono religiose non sono molto disponibili ad andare oltre se stesse. Magari si richiamano a Dio e gli fanno dire quello che vogliono loro, però. Sì, succede anche quello. Allora, l'impegno educativo, lo sviluppo di abitudini solidali, la capacità di pensare la vita umana più integralmente, la profondità spirituale, sono realtà necessarie per dare qualità ai rapporti umani, in modo tale che sia la società stessa a reagire di fronte alle proprie ingiustizie. Alle aberrazioni, agli abusi di poteri economici, tecnologici, politici e mediatici. Ci sono visioni liberali che ignorano questo fattore della fragilità umana e immaginano un mondo che risponde a un determinato ordine capace di essere lo stesso, capace di per di per sé stesso, scusatemi, di assicurare il futuro e la soluzione di tutti i problemi. I soliti vagheggiamenti dell'essere umano, il quale ogni tanto si inventa che ha trovato la formula magica. si può mai essere disponibile a entrare nel processo trasformativo che è chiamato a contemplare e a farsi protagonista, responsabile di un'evoluzione che non è proprio un affare semplicemente suo, è un affare di tutti e passa attraverso anche la fratellanza e il rispetto dell'ambiente di questa nostra martoriata madre terra. Il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma di fede neoliberale. Si tratta di un pensiero povero, ripetitivo, che propone sempre le stesse ricette di fronte a qualunque sfida si presenti. Il neoliberismo riproduce se stesso tale e quale, ricorrendo alla magica teoria del traboccamento o del gocciolamento, senza nominarla. Se non erro questa teoria, è l'idea che una persona che accumula tanto, poi come un bicchiere in cima a una piramide di altri bicchieri, trabocchi una mano che viene riempito e vado negli altri, quindi una persona molto ricca, spenderà tantissimo perché può permetterselo e quindi distribuirà la propria ricchezza. Sì, distribuisce le briccioline. Inutile dire che non è così. Sì, inutile dire che non è così. Con le goccioline del bicchiere. Non solo… Questa teoria, no? Che il mondo va decisamente meglio perché ha trionfato il liberismo, la popolazione sotto la soglia di povertà si è ridotta, siamo diventati 8 miliardi, tutto va bene, poi scopriamo che le disuguaglianze aumentano e che la formulazione di queste teorie nasce semplicemente da una semplificazione dei calcoli. E' vero che il reddito medio mediamente nel mondo è cresciuto, ma guerre, carestie, fame e inflazione fanno sì che quel reddito medio ha un significato al ribasso, nel senso che il potere d'acquisto di fatto si sta progressivamente riducendo anche nei paesi più ricchi e quindi questo grande triontualismo della mano invisibile del mercato, chiaro che assume un significato molto bigotto e idolatrico e viene rappresentato come una sorta di formula scientifica. Come unico, dicevo, il neoliberalismo riproduce se stesso tale quale, ricorrendo alla magica teoria del traboccamento o del sgocciolamento senza mai nominarla, come un'unica via per risolvere i problemi sociali. Non ci si accorge che il presunto traboccamento non risolve l'inequità, la quale è fonte di nuove forme di violenza che minacciano il destituto sociale. Da una parte è indispensabile una politica economica attiva, orientata a promuovere un'economia che favorisca la diversificazione produttiva e la crescita nella creatività imprenditoriale, perché sia possibile aumentare i posti di lavoro invece di ridurli. La speculazione finanziaria, con il guadagno facile come scopo fondamentale, continua a fare strage. D'altra parte, senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica, ed oggi è questa fiducia che è venuta a mancare. La fine della storia non è stato tale e le ricette dogmatiche della teoria economica imperante hanno dimostrato di non essere infallibili. La fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve con la libertà di mercato e che, oltre a riabilitare una politica sana, non sottomessa al dettato della finanza, dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno. Un programma impegnativo che purtroppo temo che l'agenda politica non prenda neppure in considerazione, anche quando dichiara di opporsi al modello liberista. Siamo di fronte a una condizione umana che si è sostanzialmente immolata all'idolatria del mercato, la famosa appunto mano invisibile del mercato che garantirebbe benessere. Una sorta di nuovo vitello d'oro costruito ad arte e ha generato semplicemente un moltiplicarsi delle oligarchie miliardarie che hanno creato condizioni di insicurezza nelle nazioni e tra le nazioni. Abbiamo bisogno evidentemente di essere capaci di approfondire queste tematiche e testimoniare che un altro mondo, anche dal punto di vista economico, è possibile. Abbiamo finito la… Manca l'ultimo paragrafo. Sentiamo allora l'ultimo paragrafo. In certe visioni economicistiche, chiuse e monocromatiche, sembra che non trovino posto i movimenti popolari che aggregano disoccupati, lavoratori precari e informali e tanti altri che non rientrano facilmente nei canali già stabiliti, tra cui gli immigrati, nel nostro caso specifico, non solo nostro ma in particolare per l'Italia. In realtà essi danno vita a varie forme di economia popolare e di produzione comunitaria. Occorre pensare alla partecipazione sociale, politica ed economica in modalità tali che includono i movimenti popolari e animino le strutture di governo locali, nazionali e internazionali, con quel torrente di energia morale che nasce dal coinvolgimento degli esclusi nella costruzione del destino comune. Al tempo stesso è bene far sì che questi movimenti, queste esperienze di solidarietà che crescono dal basso, dal sottosuolo del pianeta, confluiscano e siano più coordinati che si incontrino. Questo però senza stabilire il loro stile caratteristico, perché essi sono seminatori di cambiamento, promotori di un percorso in cui coinvolgano milioni di piccole e grandi aziende concatenate in modo creativo, come in una poesia. In questo senso sono poeti sociali che a modo loro lavorano, propongono, promuovono e liberano. Con essi sarà possibile uno sviluppo umano integrale che richiede di superare quell'idea delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, ma dei poveri, è tanto meno inserita in un progetto che riunisca i popoli. Benché diano fastidio, perché alcuni pensatori, tra virgolette, non sappiano come classificarli, bisogna avere il coraggio di riconoscere che senza di loro la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo dalla sua lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo destino. Vedevo, giusto appunto, qualche giorno fa, un video di un insegnante, di un filosofo italiano, Matteo Saudino, perché lo conoscesse, che faceva notare come ormai per dire l'America non sia più definibile una democrazia, in un certo senso, perché al governo tutte le decisioni e tutto ciò che si fa e chi va al governo sono tutte persone estremamente ricche, i più ricchi che, comprandosi la campagna elettorale, riescono a farsi eleggere e a mantenere il potere. Di fatto ormai è una plutocrazia, tecnoprutocrazia definiva, poiché ci sono alleanze, perché i più potenti sono spesso quelli che sono anche in possesso di mezzi di produzione, della ricerca scientifica che viene svolta solo a loro vantaggio, sempre di più. Bene, grazie per questa precisazione che ovviamente ci aiuta a pensare, a riflettere su come noi possiamo accogliere l'invito che fa Papa Francesco di una democrazia dal basso, che non è il populismo, sono i movimenti popolari, una democrazia dal basso fondata sulla solidarietà, sulla creatività, sul superamento dell'egocentrismo, una democrazia dal basso che potrebbe sanare una situazione internazionale piuttosto difficile e anche pericolosa e che rischia di rendere impossibile la fratellanza e la sorellanza universale. Ma ascoltando le parole di Papa Francesco possiamo avere fiducia, essere protagonisti di speranza che quel partire dal basso è possibile e riguarda ciascuno e ciascuna di noi. Bene, buon sabato e buon fine settimana. La prossima settimana vi ricordo che sabato 31 ci sarà il seminario al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Buon sabato!